pesaro la città marchigiana più colpita dall'epidemia da coronavirus oggi ha vissuto la riapertura della quasi totalità di attività commerciali nella fase 2 come altre città in tutta italia è un'altalena però di sentimenti e sensazioni quella che vivono in queste ore i 94 mila pesaresi divisi tra la forte voglia di riappropriarsi di una quotidianità scippata dal virus e riprendere da dove si era interrotto e la consapevolezza però che con il covid 19 sarà una lunga convivenza forzata per i prossimi mesi e per questo l'economia forse ha ancora il freno a mano ben tirato in mezzo a tutto questo alcune categorie e operatori economici come bar e ristoranti forse i più penalizzati da questo nuovo modo di vivere ma ancora con tante zone grigie sulle quali fare chiarezza come ci spiega marco paolini giovane imprenditore da oltre sette anni impegnato nella ristorazione presente anche in piazza a fano assieme ad altri suoi colleghi che oggi non ha alzato la saracinesca del suo locale in attesa di più chiare direttive la grande maggioranza di noi trova che in questo in questo modo in questo modo è difficile tirare sulla saracinesca soprattutto non puoi pretendere di dare delle norme il 16 sera il 17 sera tra l'altro di fine settimana e pensare che i locali siano pronti ad aprire perché la sicurezza prima di tutto dei nostri dipendenti dei nostri clienti dei nostri amici nostra quindi noi apriremo quando apriremo con molta calma perché vogliamo essere sicuri vogliamo capire cosa ci viene richiesto non possiamo aprire lo sbaraglio perché vogliamo evitare o ridurre i rischi una buona parte dei ragazzi che sono nel gruppo degli esercenti che io sono qui a rappresentare hanno deciso stamattina di non aprire e di con molta serenità e tranquillità per quanto possibile insomma di aspettare e mettersi a norma in regola aprire dal domenica sera lunedì mattina ci sembrava una cosa un poco coerente e non giusta nei nostri confronti ma neanche per le persone che devono venire ai nostri locali perché noi non sappiamo come riceverli. luogo dal canto loro come altri del territorio stanno pensando a nuovi scenari per ammortizzare le ricadute negative sulle economie aziendali inevitabili visti i presupposti ridisegnando anche la morfologia della città provando ad azzardare progetti fino all'altro giorno forse rimasti nel cassetto dei sogni ma che oggi rappresentano una delle poche carte da giocarsi. ci auguriamo che la stragrande maggioranza della città apprezzi il nostro sforzo e la scelta che andremo a fare l'idea è quella di pedonalizzare buona parte di Viale Trieste per dare la possibilità alle attività commerciali di aggredire il marciapiede tra virgolette con tavoli e sedie noi utilizzeremo la ciclabile ovviamente come abbiamo sempre fatto e la parte carrabile quindi la strada sarà dedicata esclusivamente ai pedoni perderemo diverse decine di posti auto però ne recuperiamo molti di più nell'ex colonia di Villa Marina che l'Inps ci darà incomodato gratuito per quattro mesi quindi noi andremo a realizzare un parcheggio completamente gratuito a disposizione della città. Grazie